Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con il nostro appuntamento settimanale dedicato a Xur e all'analisi di quello che venderà. Per la classe del titano venderà l'eterno guerriero, non ricordo con che DLC sia stato introdotto, se l'oscurità dal profondo o il casato dei lupi, in ogni caso è un pezzo d'armatura da evitare. Il suo effetto sarà quello di fornire alla sottoclasse dell'assaltatore il perk inarrestabile, fornirà sì questo perk ma non ne fornirà anche l'armatura bonus, quindi diciamo che dà un vantaggio trascurabile, oltre al fatto che è veramente brutto anche da vedere. Poi, per la classe del cacciatore venderà il radar zuccone, quando equipaggiato tutte le armi primarie avranno il perk terzo occhio, quindi mirando il radar rimarrà attivo e nel pvp questo casco è sorprendentemente molto utile, anche se ha un effetto molto banale spesso viene sottovalutato e non poco. Nel complesso però, almeno per il pvp, vi assicuro che è un buon pezzo d'armatura, personalmente ne consiglierei l'acquisto. Infine per la classe dello stregone vendrà le macchine dell'impossibile, fornirà la sottoclasse dell'evoca tempeste il perk a prodo, quello che genererà un'esplosione di fulmini intorno a voi quando attiverete la super. È un discreto pezzo d'armatura, il suo utilizzo però è limitato esclusivamente a quando avrete la super ed esclusivamente se l'attiverete quando dei nemici saranno intorno a voi, il che già di per sé è abbastanza rischioso. Diciamo che non è malaccio ma non è assolutamente il miglior pezzo d'armatura, personalmente un ariete lo preferisco sempre. Poi l'arma di questa settimana sarà il Suros Regimen, naturalmente la versione anno 2. Nel complesso un buon fucile automatico, forse non uno dei migliori, attualmente quelli che vanno di più sono quelli con la cadenza al massimo. In ogni caso parliamo del Suros, come arma, come fucile automatico sta sempre a farsi valere e se non lo aveste mai provato personalmente vi consiglierei l'acquisto. E per concludere, l'engramma storico di questa settimana sarà per il Torace e i due decori saranno Pericolo Folgorante per il Supercell Azalo e Rinascita Infucata per l'Ululato della Zanna di Lupo. Dunque ragazzi per quanto riguarda lo Suros di questa settimana è tutto, come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, iscrivetevi se non lo aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi!